Vado sopra, gli sparo, giro E' zitto un po' Ma stai calmo Ragazzi Aaron è su un'automobile Sono sicuro che adesso inizierà a cantare Scommessa? Aaron No 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 Per favore per favore Sta scappando 34 C'è l'acqua Boni io oggi finalmente Rintrerò nel tuo team Non faccio 20 kg ma ne farò 50 Ho letto i commenti dello scorso video Tu ti siete d'accordo a far tornare Aaron nel team Dunque oggi l'ho rinvitato per fargli fare Il provino finale Aaron dai calmo Eccolo subito Voglio rientrare Però ti ricordi che la scorsa volta che ti ho espulso Perché appunto mi hai dato fastidio Oggi non ti permettere Che altrimenti ti blocco Non lo faccio Non lo faccio Però mi devi dire quante kill fai oggi 47 manco diviso 2 Secondo me manco diviso 2 Tutte No 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 47 basta 47 fantasmi Dai Ormai lo sai Eh sì vabbè Aaron Quindi non perdiamo altro tempo Mettiamo pronto Ma ovviamente ragazzi per iniziare Mettete tutto un bel mi piace a questo video Iscrivetevi ora al canale con la campanella Mi raccomando che chi si iscrive può essere invitato per fare un provino Detto questo 3 2 1 andiamo in partita Ok ragazzi siamo in partita Aaron dove ti butti oggi Fammi indovinare Stark Lago 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 Città dei bidoni Non lo sappiamo Come l'hai chiamata scusa? Città dei bidoni Come dici tu no? Aaron Ok perfetto Perfetto Ora a te mi faccio killare E poi ti aspetto Quindi mi raccomando Buona fortuna Che succede Aaron? Che succede? Ragazzi è impazzito Già l'abbiamo perso Vabbè Vabbè Io c'è qualcuno che fa mi killare Non becco nessuno Aaron aspetta Ma che sta dicendo? Stai già fightando Stai già fightando il nostro Aaron Ok c'è un altro L'ha killato in diretta Sì l'ho visto in diretta Ok c'è un fantasma dietro Ok ok Ha anche dato pure quello Ok ragazzi stiamo finalmente aspettando il nostro Aaron Anche quante kill hai fra? Quante kill hai già? Quante kill hai? Eh aspetta Ho killato un fantasma Sette kill Di già non mai Contando che ci sono pure i fantasmi Però tre in meno Te le tolgo eh Spero ho killato due tre fantasmini eh 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 Se non di più Se non di più Faccio un nemico però Non è un fantasma 55 Comunque 20 20 20 Easy kill GG GG Bravo Mamma mia ma quanto ti vanti Ma quanto sei scarso Ecco Ecco subito parte Mi insulta Scusami scusami Eh voglio entrare nel team Scusami scusami Non ti volevo insultare C'è un fantasma d'Aaron Dai killalo Su Ma che stai facendo? Ma che sta facendo? Ma che sta facendo? Ma Guarda che ci muori eh Ma Sta trollando il fantasma Oh Vedi che hai rischiato? Sta pure vedi un man di testa Mamma mia Basta Aaron Cioè ragazzi Mamma mia Comunque Zitto un attimo Zitto un attimo Dittemi tutti nei commenti Se secondo voi Questa volta ce l'ho parlato Entrando nel team Scrivetevi sì o no In questo momento Ma c'è bisogno che lo chiedi Eh mamma mia Guardate qua Quanto è arrogante Guardate Guardate quanto è arrogante Mamma mia C'è una persona qua Pensa a fightare Pensa a fightare Pensa a fightare Attenzione c'è un nemico qua L'ha hittato Ce l'abbiamo L'ho chiuso Attenzione potrebbe fare l'edit Con la scala 60 Non male Dai che manca un colpo Non sei male a giocare Aaron Però devi essere meno arrogante Metto una scala così Faccio così Così sparo Eh non l'hai neanche hittato Non l'hai neanche hittato Vado sopra Gli sparo 23 Fatto Sono un pro player Zitto un po Oh Ma stai calmo C'è l'altro compagno qua C'è l'altro qua Raga mi fa venire mal di testa ogni volta Aaron mi fa venire mal di testa Non ne posso più E il video è mio E non mi fa neanche parlare Mi dice stai zitto Non te lo permetto questo Sì tu i video Certo certo Pensa a killarlo Pensa a killarlo 40 È killato Quanti kill hai fra Penso una decina almeno Quanti kill hai 11 kill Esatto Dai dai Continua così Curati un po Fatti uno shieldone Hai capito Sì Più player di crash royale Ragazzi Aaron è su un'auto Ragazzi Aaron è su un'automobbie Sono sicuro che adesso inizierà a cantare Scommessa Aaron Ma dovete corrompare in front No 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 Per favore Per favore Per favore Ma vai Italia's got talent Se vuoi cantare Non su fortnite Italia's got fortnite Ma vai Ma vai Hai visto che cantautore Che sono io Hai sentito Hai visto il video di Loss Sì l'ho visto Ho visto quanto sei Testonato Aaron Ora basta però Ora basta Pensa a fare ste kill Pensa a vincere Non stiamo facendo un dibattito Stiamo giocando È un provino serio questo Io sono qui il capo Io faccio tutto Decido tutto Sì Il capo deve Per favore No Ma scusami Tu vuoi fare il mio team E vuoi creare un team E questo team Scusami tu Come pensi di gestirlo Cioè mi sembri molto lucido Lo chiamo bidoni Hai capito Ragazzi Chi di voi Non vorrebbe entrare Il team bidoni di Aaron Ditemelo nei commenti Un team davanti Ma vanno in cespuglio questi Fortissimi Ok c'è l'altro Che sta scappando subito 33 Oddio Ho preso un po' di vuole Non male Questo si nasconde Oddio Dov'è Dov'è Non lo vedo più È qui dentro Raga Fa l'edit Non è vero Non fa l'edit 153 E lo conferma C'è la Tommy Ma che luccia questo Ma che luccia Ma che luccia Oh ma che luccia Cos'è balossa Balossa Boh una balossa Ma quello sta scappando Con la macchina La faccio uscire io Io sono il polizioso Qui hai capito Oh oh È esploda veramente È esploda veramente Vai a prenderlo Oddio Dov'è finito L'hai fatto fuggire Hai perso un nemico Signore Dove sei Ghostbusters Ma stai passendo Oh Beh bro Bro Hai pure la skin Dei ghostbusters Quindi dei fantasmi Dovresti tutti ucciditi Non fa problemi Non per fare la battutina Però Basta 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 Comunque Era una parte di scherzi Una cosa importante Eh dica Dica Veloce anche Beh Ma perché sei così arrogante Perché mi sto un po' Su un cigillo E tu vuoi entrare nel mio team Sì mi piace Te no Hai capito Faticissimo Te dai Eh lo vedo Ok c'è un'auto Ti potrei buttare giù Eh Tu sei Non lo so Non lo so In questo pochi maspera C'è la cardina Uè La cardina Oh c'è qualcuno Forse là Oh 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 Sento un'auto Alla tua sinistra C'è un po' di gente qua Eh quel fantasma Che voleva fare Ma perché terminavo Muore Bravo Oddio Lo so Questa è la scopa volante Di Harry Potter È il momento Di aprire Il cavo Oddio Oddio Oh oh Aaron Stai a morire Aaron Aaron Stava per morire Curati subito Ma lei cosa sta dicendo Bonino Curati subito Se per dirvi così Ciao nel provino Ma io C'ho chiesto di parlare C'ho chiesto di parlare Con un bimbo arrogante Due nemici davanti a lui Due nemici davanti a lui Vediamo un po' Facendo la tua Two soft aim Sì Eh 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 Guardi avanti i colpi smirati Vabbè ma questi qua Ma que Oddio Oh 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 Vabbè manca un colpo Dai che sono bottazzi Sono più scarsi di te questi Sono più scarsi di te Sono più scarsi di te Sì lo piccono Ma quante kill hai adesso? Giura Quante kill hai adesso? Non è stato kill Quante? 17 Hai capito bene Sì Aaron 17 Non sono le 47 Che mi hai detto inizio partita Però eh 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 Ah ma ora ne faccio 17 Sì Altri 17 Comunque Ok ci sono tanti fantasmi Attento Attento Sì Piripiri Questo è un nemico vero Quello è un nemico vero Quello è un nemico vero Oh i poteri Copriti Aaron Per me ti copri troppo poco Secondo me Hai delle buone skill Comunque buildi bene Giochi bene Però Alcuni colpi potresti visare Guarda quanto è scarso quello Ma che sta facendo quello? Che potere era? Ma che potere era? Dove è che stanno sparando? Vabbè Di dietro È pieno di gente Aaron eh È pieno di gente È pieno di gente Oddio Questa è qualcosa qua dentro Mamma mia 60 30 80 Sta scappando E invece non scappa E invece Guarda che tu scappai Aaron Oh Pirla C'è un fantasma Attenzione lo kill Mamma mia Aaron Ma sei così scarso Che stai per munire dai fantasmi Sei scarso Sei scarso Perdi Ancora Hai coraggio Basta Ancora Basta Pensa a vincere Che se non la vinci Ciao 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 team Ci sono dei nemici lì al cavo Ma che stai facendo? Ora vado Ha fatto il trick Sì Bello 89 39 24 Attenzione Eccolo Ce l'abbiamo Oddio Uh è rischiato Ok c'è una macchina Ok non hai colpito il po' Ma stai a 400 Ma un'invagine di fantasmi questa Ghostbuster Ci salvi lei Su Basta 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 Usa ancora la giamperina E se ne va verso la safe Vado 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 Ma quanto è scarso Muore dal fantasma quello Muore dal fantasma Gli hai rubato sul fantasma Attenzione Fattando che vola 38 38 Non lo confermi Fantasmino Ma che miraccia Aaron Non becchi un colpo Guarda Ma il fucile era tarocco L'avevano voi Era tarocco Sì sì Ragazzi Questa è nuova Il fucile tarocco Cioè Lo sapete Su Fortnite Vi danno pure i fucili truccati Quindi che gli fanno meno hit Vabbè Vabbè Aaron Tu fiedi che in questi giorni Ti faccio un bello scherzo Io Quando non lo traspetterai Io Ti farò uno scherzo Che non ti piacerà Oddio c'è un fantasma Oddio C'è una gravità Ma pensavi di morire Ma è l'ultimo fra Hai vinto eh È l'ultimissimo Manca l'ultimo È lui Sta scappando 34 No C'è l'acqua Oh 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 Talla serato 110 Ah manca il suo fantasma È vero Pensavo avessi vinto Stavo un attimino triggerando Manca il suo fantasma Controlla un pochino Dove volerà giù Dov'è lei Dov'è il fantasmino Uè Vieni mi a prende Ok ok Poca vita Vieni mi a prende Vittoria reale In volo 36 kill 36 36 kill 36 fantasmi Paresti dire Bella partita Torniamo alla lobby Aaron La partita è stata molto bella Quindi complimenti Vabbè quindi non è entrato nel team No eh allora Non è che ti piace entrare in questo momento Perché stiamo ancora registrando Però Mi hai convinto abbastanza Quindi Chiedo Chiedo agli spettatori Che ne pensano Ditemi nei commenti Se per voi deve entrare Oppure No Quindi Aaron Vediamo un pochino cosa dice il pubblico Va bene No Io creo il mio team ora Ma come crei il tuo team Ma come crei il tuo team Ma hanno aguantato il mio Basta basta Vabbè 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 Ma